mi scuso con voi vi do gli auguri di buone feste in ritardo ma l'influenza mi ha ammazzato ragazzi era impensabile per me solo accendere il pc quindi parliamo di bandiere ok ragazzi perché parliamo di bandiere perché è emerso dalle live del salotto del steamraiser che molti di voi ci chiedono di parlare di argomenti che per noi sembrano scontati cioè parliamo di regolamenti codici di comportamento cioè argomenti che per chi è nel mondo della simulazione o nel motorsport risulta essere quasi scontato ma così non è e quindi pur avendo trattato argomenti come consigli di guida per principianti tutorial eccetera probabilmente ho saltato un passaggio fondamentale che è quello proprio forse di quello che è regolamenti codici bene allora oggi parliamo appunto delle bandiere prima di iniziare se tu che stai guardando sei già un esperto di bandiere conosci le bandiere sei un esperto di motorsport o di sim racing e quindi hai esperienza in questo campo ti prego di continuare a guardare questo video perché il tuo commento sarà preziosissimo per migliorare questo contenuto per darmi altri suggerimenti te ne prego di questo genere qui e perché no correggermi se dico qualche fesseria in questo video ti ringrazio in anticipo torniamo a noi ragazzi parliamo di bandiere allora le bandiere ragazzi non sono nient'altro che un strumento efficace di comunicazione che utilizza la direzione di gara per appunto comunicare con i piloti in pista è un mezzo molto efficiente perché la comunicazione è immediata malgrado ci siano le possibilità di comunicare via radio eccetera con i piloti bisogna ammettere che con un codice universale quale noi siamo tutti abituati e quindi anche in questo caso a utilizzare un pilota riesce a capire esattamente e in modo ultra efficiente e veloce quello che sta succedendo in pista o quello che vuole comunicare la direzione di gara ragazzi a volte con una emoticon si descrive uno stato d'animo al quale magari servirebbero tipo dieci righe quindi immaginate la potenza visiva di un codice che tutti conoscono e che oltretutto non c'è bisogno di tradurre immaginate i piloti in pista di multilingue la direzione di gara si parliamo inglese siamo sicuri e tutti conoscono l'inglese con un codice univoco internazionale comprensibile da tutti quale le bandiere si riesce ad avere un'efficacia di comunicazione che può salvare la vita parlando nel mondo del motosport vero e per quanto riguarda la simulazione di guida le bandiere sono efficace se due condizioni vengono rispettate la prima è conoscere il significato delle bandiere la seconda ragazzi è rispettarle e questo non è un qualcosa di scontato perché nei campionati nelle gare ragazzi quante volte ci siamo imbattuti a degli incidenti che sarebbero potuti essere evitati proprio se fossero state rispettate le bandiere iniziamo dal significato delle bandiere allora la bandiera bianca iniziamo la bandiera bianca che molti confondono diciamo vuol dire ultimo giro no la bandiera bianca indica che in quella porzione controllata dalla postazione quindi da un commissario di gara c'è un veicolo che un veicolo lento davanti a voi quindi attenzione molte volte si sottovaluta quello che è il valore della comunicazione che fa la direzione di gara quindi nel nostro caso il gioco attenzione bandiera bianca ok ti lampeggia guarda c'è un veicolo lento non non sai dove a destra sinistra al centro perché non sai mai che cosa può essere successo successo a quel povero cristiano che lì diceva sto andando lento magari si sta rendendo conto che il motore ok quindi sempre occhio alzate un po il piede ragazzi alzate un po il delta non è un obbligo perché non è un'imposizione da parte della bandiera bianca però essere prudenti non è male dopodiché parliamo della bandiera gialla e a righe rosse che indica un deterioramento della reerenza della pista in quella porzione lì in quel settore lì che può essere dovuto o a presenza di acqua o presenza di olio quindi ti conviene alzare il piedino perché se ti giri poi non è che vieni da me e dici ah non me l'hai detto sì te l'ho detto sbandierato questo però nei simulatori non dico la verità non l'ho mai visto forse per la moto gp che è molto indicato perché lì le moto sono molto sensibili alla perdita di grip ovviamente visto che sono su due ruote a seguire abbiamo una delle bandiere che secondo me è più importante diciamo per quanto riguarda la sicurezza parliamo della bandiera gialla la bandiera gialla può essere esposta in due modi con i seguenti significati bandiera gialla una bandiera gialla vuol dire che c'è un pericolo sul bordo o su una parte della pista cioè bisogna ridurre la velocità non bisogna sorpassare non bisogna doppiare e bisogna essere pronti a cambiare traiettoria non è difficile ragazzi doppia bandiera gialla vuol dire che sto intensificando il significato di pericolo cioè vuol dire che c'è la gareggiata che o parzialmente o totalmente o costruita quindi il tuo comportamento deve essere diminuisco la velocità e mi tengo pronto o a deviare la traiettoria o a fermare completamente il veicolo è doppia bandiera gialla no perché come direttore di gara in certi campionati mi sono ritrovato a sanzionare perché ci sono stati dei sovra incidenti dell'incidente con carabbole e macchine che saltavano a destra e sinistra perché dice ma non l'ho vista le doppie bandiere gialle a vabbè perché se magari tu l'avesse viste perché quando si espongono vuol dire che veramente c'è un pericolo tipo un carambolaggio di a ma non l'ho visto io vabbè sono indicate dappertutto ti il monitor diventa giallo fluo da quanto vabbè ok quindi doppia bandiera gialla ragazzi occhio dopodiché potrebbe susseguire se i danni accaduti su segnalazione della doppia bandiera gialla la bandiera rossa la bandiera rossa indica gara stoppata fermata cioè devi rientrare box piano piano tranquillo ok senza superare rientra box e fermi la macchina perché la gara è stoppata momentaneamente oppure definitivamente deciderà poi il direttore di gara un'altra bandiera molto interessante che ovviamente è famosa perché viene interpretata dai piloti come gli pare è la bandiera blu la bandiera blu indica che sta per arrivare un pilota dietro stasso per sopraggiungere un pilota che ti deve doppiare e tu alla prima occasione devi agevolare il sorpasso non mi interessa che stai lottando per la posizione 301 non mi interessa devi prima occasione che puoi in sicurezza lo devi far passare ovviamente chi sta sopraggiungendo non può fare un sorpasso di soppruso e violentare chi deve essere sorpassato ovviamente bisogna fare le cose con con metodo certo però chi sta chi si deve far doppiare deve agevolare il sorpasso punto dopo di che arriva la bandiera più bella e la bandiera verde vuol dire il via libera ragazzi che ovviamente si sposa con i semafori verdi no quello che trovate alla pit lane oppure sulla griglia di partenza quando si accendono i semafori verdi vuol dire via possiamo andare si parte con la gara oppure puoi accedere alla pista vuol dire che è tutto a posto puoi ripartire a pieno regime ed è bellissima quella bandiera poi si passa ragazzi a delle bandiere che sono riservate esclusivamente al direttore di gara bandiera nera bianca divisa in diagonali che indica che un pilota che indica al pilota che è stato avvertito per un comportamento scorretto quindi vuol dire alla prossima occhio perché ti purgo ok dopodiché c'è la bandiera nera che è la bandiera che ovviamente viene indicata con il nome o il numero del pilota e significa sei stato squalificato quindi devi rientrare box in sicurezza perché sei stato squalificato esiste anche una bandiera nera con un disco arancione che indica devi rientrare box in tutta sicurezza perché hai un problema meccanico che mette a repentaglio la tua sicurezza e quella degli altri in pista quindi devi rientrare poi se sistemi la macchina puoi ripartire altrimenti ti fermi e dopodiché che sta a sancire anche la fine di questo video ovviamente è la bandiera la famosissima a scacchi ragazzi che indica che la gara è terminata oppure che le sezioni di qualifico pratiche sono terminate e solitamente se siete i primi ad averla vista avete anche vinto la gara quindi ragazzi questo era il giro di tutte le bandiere non credo di averne dimenticate spero che questo video vi sia piaciuto se è il caso ragazzi lasciate un pollice in su come vi dicevo all'inizio non esitate a lasciare un commento iscrivetevi al canale tanto e gratuito da Fabrice è tutto un abbraccio ciao